In un forte, no? In un fortino c'è il comandante del forte, chiama il soldato, gli fa soldato, sta iniziando l'inverno, vai a tagliare la legna e portala davanti al forte per fare il rifornimento per passare all'inverno. Va bene, fa il soldato, dice che il soldato va con il carro, piglia un monte di legna e la porta, no? Dice che basterà, gli fa il comandante, il comandante gli fa, c'è il vecchio saggio indiano della montagna, vai a chiedere a lui se basta la legna per l'inverno, dice come fa a saperlo? Boh, te vai gliela a chiedere. Allora il soldato va dall'indiano, dice vecchio saggio indiano, sì, che basterà questa legna per l'inverno? Farà tanto freddo o poco freddo? E l'indiano fa, quest'anno fare tanto freddo. Allora torna, dice, ha detto fa tanto freddo, allora vanno a prendere ancora, che ritagliano legna, ritagliano legna, la riporta, dice, ma farà più freddo ancora? Vagliela a chiedere al vecchio indiano, vecchio saggio indiano, basterà quella legna? Quest'anno fare tanto, tanto, tanto freddo. Borda, ritaglia legna, riporta legna, dice che basterà, ma come fa a saperlo? Boh, vagliela a chiedere. Grande saggio indiano gli fa il soldato. Ma che potere ha lei? Come fa a sapere se fa tanto freddo o tanto, 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 tanto freddo? Che cosa guarda le stelle e il sole? No, guardi il fortino, se hanno preso parecchia legna vuol dire che fa parecchia legna, se ne hanno presa poco, vuol dire che ne fa poco.